Sono sempre più pericolose le strade e alcuni tratti autostradali della provincia di Salerno. Negli ultimi 20 giorni si sono verificati numerosi incidenti e purtroppo hanno perso la vita ben 5 persone. L'ultima tragedia, ieri pomeriggio, sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria in direzione Fratte, Giovanni Falcone, camionista cinquantenne di Fisciano, guidava il suo tir. Ferrer, improvvisamente ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un pilone. Immediati quanto inutili i soccorsi. Quando il corpo è stato estratto dall'abitacolo, l'uomo era già deceduto. Solo la fortuna ha fatto sì che nessun altro mezzo rimanesse coinvolto dopo il violentissimo impatto per il camionista. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore. Ma la giornata di ieri è stata drammatica sul raccordo Salerno-Avellino in direzione Caserta. Due anziani hanno perso la vita. Clamorosa la dinamica con un uomo di 80 anni che ha guidato la sua vettura a contromano con al fianco la moglie di 78 anni. Coinvolte in questo caso tre automobili per l'anziano e la moglie, due pensionati che vivevano alla frazione Sant'Angelo di Mercato Sanseverino, non c'è stato nulla da fare. Sono morti sul colpo. Il conducente di una delle altre vetture che si sono viste fiondare addosso alla Lancia Ypsilon ha subito invece una frattura al bacino. Soltanto qualche ora prima a Salerno un uomo di 68 anni di ritorno dallo stadio Arechi dove aveva visto la partita della sua salernitana contro lo Spezia aveva perso la vita dopo che la vettura era finita contro un albero in zona Mercatello. Per il primo e quest'ultimo incidente potrebbero essere state determinate le condizioni non buone dell'asfalto, in particolare per via della pioggia caduta copiosa negli ultimi giorni. Resta un dato. Molte strade provinciali sono in cattivo stato, presentano buche, sono pericolose per l'incolumità dei pedoni e non solo di automobilisti e camionisti. Per non parlare di alcune arterie la cui pericolosità andrebbe maggiormente segnalata oppure andrebbero quantomeno utilizzati e installati dissuasori della velocità. Basti pensare alla via Pepe, comune di Sant'Egidio del Monte Albino, dove ad inizio gennaio fu provocato un incidente nel quale purtroppo perse la vita una donna di 73 anni. L'auto era guidata dal marito della donna e finì fuori strada per Carolina De Angelis. Non ci fu niente da fare.